benvenuti da one piece i massimi esperti in questo nuovo video teoria ed approfondimento dopo Aokiji cavo della sword secondo il nostro punto di vista coordinatore colui che gestisce le fila oggi parleremo di un altro ammiraglio toro verde detto anche ryokuju dividendo parte dei kanji del suo nome possiamo anche trovare la parola che rappresenta la forza vitale dal momento che non ancora comparso in modo chiaro non si conosce ancora il suo vero aspetto però in penombra sembra avere dei capelli lunghi e mossi ondulati e indossare anche un cappotto un copra abito molto simile a quello dei marini come Fuggitora, Kizaru e gli altri da questo punto di vista molto simile caratteralmente sembra essere un individuo rilassato che prende tutto con un atteggiamento molto disinvolto prima di entrare però nei dettagli del video ricordatevi di attivare la campanella se siete iscritti e di iscrivervi se non lo siete, di passare dalle nostre altre video teorie, dai nostri link, dai nostri profili facebook, telegram, instagram o avvisi massimi esperti e non vi dimenticate perché ultimamente youtube sta dando alcuni problemi e a volte fa attivare o no le notifiche per i video quindi se andate sul telegram specificatamente lì trovate il link appena esce una live o un video quindi non vi potete mai sbagliare dimostrazione di ciò adesso andiamo avanti stavamo parlando di questo carattere disinvolto infatti non appena lui si incontra con Fuggitora a Mary Joise, Mary Joy, Mary Joyce come preferite non pensa nemmeno un secondo di eseguire gli ordini di Akainu, il grande ammiraglio Sakazuki e invece pensate che lui addirittura dice che è troppo faticoso mangiare e quindi non pensa nemmeno per un istante di fermare Fuggitora allontanandolo proprio dal reverie infatti continua a digiunare da addirittura tre anni affermando che sarebbe disposto ad interrompere questo digiuno solo se fosse una bella bellissima donna a chiederglielo o almeno ad imboccarlo dal dialogo avuto lì a reverie sembra andare molto d'accordo Fuggitora e Toro Verde lo flamingo ha descritto inoltre Toro Verde come una vera e propria bestia in termini di potenza al pari di Fuggitora naturalmente l'ammiraglio è in grado di usare l'ambizione e l'aki nel stato temporale Toro Verde viene nominato ammiraglio attraverso un reclutamento su scala mondiale da qui entriamo in una piccola analisi del legame con altri due viciammiragli infatti per la carica di ammiraglio con lui gareggiavano altri due che erano il vecchio dei soprannominato Tokikake che è anche detto Shanton che vuol dire maiale marrone il suo aspetto oltre al suo soprannome come quello degli altri animali si basa su quello di un famoso attore stiamo parlando di Kiyoshi Atsumi e in particolare del suo personaggio Torasan poi c'è la bella, anzi io la definirei bellissima, Gion detta Momusagi che significa invece coniglio rosa Oda ha disegnato il suo aspetto come quello degli ammiragli ed è basata anch'essa su un attore, un'attrice giapponese nel suo caso parliamo di Micilio Kogure anche il suo soprannome come quello di tutti gli altri ammiragli è stato creato in modo di unire quello di un colore insieme ad un animale inoltre sempre Gion ha una spada, possiede una spada che è chiamata Kompira questa idea Kompira che è una divinità molto spesso veniva fatta coincidere con Bishamonte il dio di origine shintoista che era legato alle navi e proteggeva soprattutto i marinai piccola curiosità, piccolo aneddoto informazioni che vengono dalle SBS del volume 91 di One Piece su questi due vice ammiragli che adesso vi vado a spiegare allora parto da Gion di Gion viene detto che è un'esperta nelle arti geisha con la tecnica di intrattenimento rosa con cui riesce a sedurre qualsiasi pirata da qui possiamo provare a pensare che ci possa essere una sua origine con Wano Kuni o almeno un legame con essa mentre per Shanton sappiamo che ama le belle donne venne spesso rifiutato da Gion però una cosa molto importante lui è apprezzato ed amato dai civili quindi potrebbe aver compito delle leggesse molto importanti a livello di Marenze e va molto d'accordo con Fuggitora quindi questo è il legame con Gion e Shanton i due vice ammiragli collegati a Toro Verde ora passiamo a quello che è la saga diciamo che ha introdotto Toro Verde cioè il Re Verie allora la saga del Re Verie troviamo Fuggitora che raggiunge Mary Joyce Mary Joa, Mary Joas e a Mary Joyce gli viene offerto un pranzo da Toro Verde poi Toro Verde viene in contatto con il gran ammiraglio Akainu che gli ordina subito di allontanare Isho attraverso il lumacofono ma Ryo Ku Gyu decide di disobbedire ai suoi ordini anzi chiede a Fuggitora, a Isho se sapeva qualche cosa in più su Vegapunk perché c'era stato un incontro Fuggitora però risponde negativamente però afferma che lo scienziato è riuscito ad ultimare finalmente l'arma che farà spazzare via la flotta dei sette perché non serve più questo collegamento Fuggitora è uno di quelli che pensa che la flotta dei sette essendo composta da pirati non deve in assolutissimo modo essere sottoposta alla marina i pirati sono pirati la marina è la marina e cosa fa Toro Verde? risponde sorridendo con una salata espressante piena di energia durante la fine di un atto del paese di Uano al quarto giorno del Reverie Toro Verde e Fuggitora ingaggiano una battaglia contro i rivoluzionari Sabo con gli altri tre perché erano lì giunti per provare a liberare Orso Bartolomeo in Cuma dalla sua schiavitù oltre che dichiarare guerra ai draghi celesti una curiosità su Toro Verde è che il suo nome appunto Ryoku-yu significa proprio Toro Verde come soprannomi degli altri ammiragli il colore è dato ad un animale e in questo caso c'è anche un riferimento alla leggenda di Momotaro in inglese è anche detto Green Bull che anche è responsabile della protezione della conferenza mondiale proprio di Mary Joas per il Reverie è stato assegnato lui da Akainu a protezione dei regnati le caratteristiche principali di Toro Verde se osserviamo la sua silhouette possono essere basate sulla forza sulla potenza fisica ed ovviamente su una grande resistenza di fatti ha dimostrato di possedere una grande tolleranza per il fatto che non mangia da ben tre anni ed è riuscito a sopravvivere senza problema alcuno ora partiamo con la parte di illazione approfondimento su quelli che potrebbero essere i suoi poteri effettivi che ci verranno mostrati speriamo al più presto possibile e sarà a Katakuri a spiegarveli tutti a tra poco quindi adesso andiamo a vedere i possibili poteri dell'ammiraglio collegandoci al suo nome ossia Toro Verde possiamo associare il verde alla natura e quindi di un possibile frutto della natura o meglio della vegetazione che gli permetta di rigenerarsi e di produrre energia proprio come funziona il processo di fotosintesi per le piante e di sferrare attacchi simili a quelli di Hashirama Senju il primo Kage in Naruto con l'arte del legno come la crescita rigogliosa quindi una manipolazione della natura ed altre tecniche quindi le sue capacità potrebbero riguardare anche notevoli poteri rigenerativi che gli permettano di riparare anche la maggior parte delle sue ferite andiamo a vedere come funziona la fotosintesi è un processo chimico per mezzo del quale le piante verdi e altri organismi producono sostanze organiche principalmente i carboidrati a partire dalla nitrite carbonica e dall'acqua in presenza di luce solare rientrano dei processi di anabolismo durante la fotosintesi con la mediazione della clorofilla la luce solare o artificiale permette di convertire le molecole di nitrite carbonica e le molecole d'acqua in una molecola di glucosio lo zucchero che è fondamentale per la vita della pianta quindi questo sarebbe il processo del potere di toroverde e del perché non mangi da tre anni altra possibile lezione per toroverde potrebbe essere l'utilizzo del ritorno alla vita tecnica che gli permetterebbe grazie alla manipolazione delle cellule di non nutrirsi o di farlo in maniera limitata o alternativa distribuendo l'energia e nutrienti nel suo corpo a suo piacimento e nel tempo quindi le piante la natura il legno come il primo potere incredibile allucinante anche perché come sappiamo tutti gli ammiragli sono fortissimi sono secondi solo al re dei pirati Gold Roger Gold D. Roger a barba bianca a garpa a Sengoku magari a Kong senza naturalmente però dimenticarci ve lo dico io che sono il massimo esperto di un ambito in Italia e il capitale Kozuki Oden la leggenda quindi il video di teoria approfondimenti è finito ricordatevi di passare dai nostri link in descrizione la nostra prima pagina facebook One Piece Massimo Esperto Italia dove trattiamo tutto ciò che riguarda One Piece il nostro gruppo naturalmente la nostra seconda pagina dove facciamo le recensioni di tutti gli altri manga, anime film e animazioni account Instagram soprattutto canale Telegram dove arrivano le notifiche per i link di Youtube importantissimo non vi dimenticate le nostre collaborazioni Mugiwara Italia e AnimeTubers Assembled ricordatevi che sono il più bello non vi dimenticate